Arriva a compimento questa raccolta fondi, i social servono anche a questo? Assolutamente sì, il gruppo 6 da Arezzo 6 ha proposto una raccolta fondi per comprare sacchi a pelo per gli indigenti che vivono in strada di Arezzo. Gli aretini hanno donato fondi e abbiamo potuto comprare 12 sacchi a pelo e 12 copertine termiche grazie all'aiuto della Decathlon che ha a corsa il nostro aiuto, ci è servita come punto di raccolta e poi ci ha anche donato un sacco a pelo nel complesso. E la Croce Rossa a cui noi li doniamo che sarà il braccio che donerà, che darà fisicamente i sacchi a pelo ai nostri senza tetto. Ecco, questo gruppo è diventato un punto di riferimento per tante cose, per parlare, per scambiare opinioni, perché no anche per fare del bene? Assolutamente sì, è stata un'idea dell'admin Luca Fabri che ha creato lui questa iniziativa e siamo cresciuti avendo 25.000 iscritti nel gruppo. Ci sembrava un'iniziativa che potesse funzionare ed ha funzionato. E ora si pensa alla prossima. Ora ci pensiamo un attimo, sì, non calma. Presidente, allora la città risponde anche con i social network perché ormai oggi i mezzi moderni sono questi, ma non solo. Sì, noi siamo veramente grati a questo gruppo, che ha voluto donare a coloro che sono senza tetto questi strumenti per ripararsi dal freddo, questo sacco a pelo. Noi da anni, se vedete, facciamo la notte, quindi le notte fredde, facciamo delle ronde per andare a portare mezzi di conforto, coperte e quant'altro, a questi non abbienti, chiamiamoli così. E ora potergli regalare anche un sacco a pelo, penso che gli agevolerà a frontale il freddo. Anche perché teniamo presente che molti di questi senza tetto rifiutano di andare nel ricovero che esiste. Preferiscono magari per non abbandonare l'animale col quale vivono, eccetera. E quindi noi dobbiamo aiutarli e supportarli, anche nelle loro volontà, rispettare le loro volontà. E quindi ecco che noi gli doniamo, grazie a questo gruppo, bene merito, questo strumento utilissimo. Ma lei è iscritto al gruppo? No, io sono iscritto a tante associazioni, mi iscriverà anche a questo, va bene, spero di non arrivare ad aver bisogno anche io di un sacco a pelo. Ma come presidente della Croce Rossa sarebbero contenti, credo, se lei si iscrivete. Sì, volentieri, volentieri posso aderire come aderisco tante associazioni di volontariato perché penso che l'unione fa la forza. Arezzo è una città che risponde, basta sempre riunire queste forze e allora si possono fare grandi cose.